E bella ragazzi sono qui di questo video ragazzi sono Faber ovviamente Ragazzi oggi siamo su una mappa di Fortnite che sarebbe tipo un escape the prison E siamo in compagnia di Trofias e il Bomber Bella Ciao 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 Allora se dobbiamo essere sinceri Abbiamo provato a registrare già Siamo arrivati in un piccolo punto Ma poi alla fine è arrivato il Trofias Quindi metto vabbè rifacciamo tutto da capo e mettiamo dentro anche lui Ecco ad esempio Bomber già uscito dalla cella Ragazzi cominciate a spollicciare perché preparatevi le bestemme che partiranno Sì a me sta già partendo Ecco Solo per uscire Allora io direi Allora Luca Dato che io e Bomber abbiamo fatto un video e abbiamo detto di commentare con hashtag Il Ciucci Prego A lei l'hashtag che dovranno commentare sotto nel video Sotto questo video Nel corso della partita farò sapere Ok All'inizio è un po' difficile capire il miglior hashtag Ok Tanto sarà il solito hashtag porco Dio Hashtag Gesù Cristo Ok 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 Mica tanto Non salta il mio scusami Aspetta l'infante Di entrare Almente Devi andare a terra Luca Vedi che c'è quel pezzettino Di me lo posso saltare su questo pezzettino qua Fermi Niente Vendere verso di là Beh No Il bomber ti dico Senta che io mi sto qua un quarto d'ora a saltare su quel coso lì Ecco Oh Gesù Ah ma Luca Non sei andato a controllare con la porta là sotto Vai a controllare Questa Ciao 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 Vedi Non mi calda No Calmi che mi devo concentrare Perché sennò quando ce la facciamo Vediamo domani mattina Che sono ancora qua a saltare su quel pezzetto Tanto Tanto sarà una serie questa Non è un unico episodio Perché è impossibile fare un unico episodio Credo Uh C'è liberta Adesso Vai di là Vai di là dove c'è il legno là in fondo Salto lungo e si va qua sopra Poi salto e si va qua Buono 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 Già cannato vai Luca Buono Adesso vieni di qua Oh ce l'ho fatta Adesso ce la faccio Aspetta Ok No Raga No No Preparati Luca Perché adesso Vuola stare alla mezz'ora A conterra A conterra E sto sveglia Ok Ok Sono fatto perire Per favore Dai 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 Fali spazio Fali spazio Fali spazio Luca Dai Buono Prego vada Come cammina Luca Devi salire qua Luca Di qua Chi sei? Vai prima tu Buono Checkpoint Chi che ha aperto Lega Luca Di qua Di qua Ma Luca ma qua sta? Lega Chiudete Ok Chiudo Buono Siamo arrivati fino a qua Quindi ragazzi D'ora in poi Non sappiamo più Un cazzo di niente Ok Buono E fin qua Ci siamo Ci siamo Ho capito Qua Ah Guarda Porco dio Non mi sale Non corre Ma vai a tagliare Aspetta Andiamo a pensare Che se io faccio così No no Non ce la fai caso Ti amo Non mi viene sopra Ah Non va Ci arriva Ci arrivi Di nuovo All'angolo Negli angoli Però là All'al fondo Hashtag Non va Ecco dai L'hashtag Di queste video Hashtag Non va Mi aspettavo Un hashtag Porco dio Un hashtag Ficcati Il pompa Nel culo Però fa niente Ma Non è che forse Ci sono Ok Un pozzo Un checkpoint Ok C'è una prigione Che la legna Nel flaporta Le Così Così Ok Fin qua Vabbè Madonna Buon No Luca Luca Ma non ci fa niente Permesso No Checkpoint Luca 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 Vai Vai Lo diciamo No Dai Dai Luca Ok Va Aspè Non mi salta Perché non mi salta Nel gioco Con calma Oh 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 Aspè Ok 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 Ma porca puttana Dio Cristo C'è Adesso Bessia Non mi salta Regà Non mi salta No Non lo sto Fodin Ma c'è che spagna Mi rocca con le due spagna Si appunto Regà E c'è che mi si trinta No Ma non c'è Bacca Non so Spasta Devo chiamarmi Rose Ma vai Fanculo Un attimo Oh Ho capito Sulla torcia Oh Massimi Ci sono Ah grande Fabio E Luca Si regà è aperto qua Deve trappole Deve congelanti Congelanti Si E che cazzo Ci servono I congelanti Non lo so Anch'io Ce l'ho I congelanti Aspetta E cosa c'è qua Ma regà Ma qua Oh no Non è aperto I congelanti Dov'è che si possono Impiazzare Scusa Ah dove vogliamo Entrare Entra Entra Ma un bel Non so C'entra Un cazzo Di buco Dai Ehi Mi fai entrare Regà Ho trovato dove andare Aspetta Ho trovato dove andare Ok Dove Qua Andami Ma forza troia Noi metto ora Per fare quella Puttanata Ma porco Ok Provare a me Ti picchio buon bello Cosa vuoi davvero Non ho fatto niente Stavo saltando E saltando Mi hai tirato la testata Sosti piedi Non va Non va Non va Perché non va Ok Oh no Checkpoint Aspetta Spiccimi dentro Dai 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 Boh E qua devi usare la trappola Guarda qua No Perché tu Ma a me ci servono ancora le trappole E qua Ah qua si apre E si esce Ah no Non è Ma porca puttana Aiuto Ah ma Ma qua si sale Scusa Non è vero Aiuto Dove? Dove sei? Dove sei? Sotto Come sotto? Luca Aiuto Come hai fatto Eh? Come hai fatto Andare sotto Luca Luca Eh? Aiuto Luca Option Rigenerazione Guarda vieni Vieni Fabio Vieni Fabio Nooo Nooo Aiuto Fabio C'è le trappole Aspetta Luca Luca è morto Ma come c'è le trappole? In che senso? Ah in quel senso No ma respawni sopra Ma porca puttana Allora Ma qua c'è una porta Luca Ah ma Oddio Nooo Ce la sto facendo Bomber Guarda Sei una merda Sei una merda Fabio E' voluto chiudere la porta Dai 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 Ah Bomber guarda Ora al soffitto ok no no ok e qua ah qua ti fa saltare mado occio bomber che c'è la trappola lì porca troia ma qui sotto c'è qualcosa no non è un cazzo allora luca ti attivo la trappola vai ma almeno c'entra la vai vai vieni vieni ciao